La Serie B non si ferma, la pallavolo sembra adottare una strategia diversa rispetto alle altre federazioni sportive, perlomeno per quanto riguarda lo sport che coinvolge le compagini biellesi. Se basket, calcio e pure rugby hanno preferito bloccare tutto per posticipare la ripresa di qualche settimana, evitando recuperi, calendari sfasati e una ripresa spezzettata, il volley preferisce, almeno per ora, tirare dritto, o meglio fare lo slalom tra rinvii, tamponi e turni incompleti. Così la Virtus Biella, che avrebbe dovuto riprendere la marcia con un doppio turno casalingo, l'8 e il 15 gennaio alla Palla Sarselli, si ritrova piena di incertezze. La prima partita, con le sarde di Palau, è già saltata, quella successiva, contro le torinesi di Volpiano, teoricamente sarebbe ancora a calendario. A spiegare il suo punto di vista, il DS Virtussino Elena Ubezio. È rimandata quella dell'8 gennaio, ma a seguito di questa nota federale di questa mattina, la Serie B non si ferma. Hanno scritto come leggerai che capiranno, insomma, avranno un po' incontro a eventuali esigenze particolari, però loro non si fermano. E quindi per adesso noi l'8 gennaio ce l'abbiamo sospesa. Quella del sabato successivo, cioè del 8 bis 7 e 15, attualmente dovrebbe ancora giocarsi quella contro il Volpiano. Ti dico probabilmente chiederemo di spostare anche la prossima noi. Per noi l'ideale sarebbe stato che sospendessero tutte le partite fino al 23 compreso e quindi poi riprendere da weekend quello della 29 e 30 di gennaio. Non capisco neanche tanto questa scelta, questa decisione perché alla fine c'era tutto il tempo di recuperare finendo il campionato il 23 di marzo. A suscitare dubbi anche la situazione dei campionati regionali, che non è ancora stata regolarizzata come nel caso dei settori giovanili, con cui hanno però in comune svariati atleti. Sarà poi il consiglio regionale del Piemonte, nel nostro caso, a decidere se farli fermare oppure farli giocare. Io mi auguro, auspico e confido che blocchino anche quei campionati lì fino alla Serie C perché in Piemonte sicuramente, nelle altre regioni, non lo so ma penso anche, comunque tantissimi di quei campionati sono giocati da squadre, da tantissime squadre con dentro tantissime under e quindi non avrebbe senso non far giocare i giovanili per poi farli giocare nei campionati di serie, cosiddetti di serie. Intanto chi può continua ad allenarsi, sperando di uscire velocemente da questo inverno.